Ciao a tutti e benvenuti al nostro Oroscopo Quotidiano per oggi, 25 luglio 2024. Preparatevi a scoprire cosa riserva il destino per voi oggi e come potete sfruttare al meglio le energie cosmiche. Ciao Ariete. L'arrivo della Luna nel tuo segno porterà un'armonia che riflette il tuo stato interno con il tuo partner, rendendoti orgoglioso della decisione presa. Le stelle prevedono tranquillità tra voi e ti permettono di goderti ogni momento trascorso insieme. Questo dimostrerà ancora una volta quanto si è innamorato il tuo partner. Per i single, la Luna in questo settore porterà emozioni straordinarie da vivere pienamente. Potrai goderti quello che il periodo ti offre, specialmente se desideri incontrare qualcuno di nuovo. Le stelle saranno dalla tua parte anche sul lavoro. Sarai ricompensato per il tuo impegno e sarai soddisfatto del lavoro svolto. Un'ondata di energia cosmica vi avvolge, cari Ariete. La Luna, entrando nel vostro segno, illumina il cammino con nuove opportunità e sfide entusiasmanti. Mantenete la mente aperta e fidatevi del vostro istinto, perché la fortuna sorride ai cuori coraggiosi. Il lavoro e l'amore potrebbero riservarvi piacevoli sorprese. Ciao Toro. Una giornata positiva anche per te. È il momento giusto per apportare cambiamenti significativi alla tua routine di coppia. Non ponerti limiti, prendi decisioni con coraggio e senza paura di sbagliare. Questo ti permetterà di raggiungere una maggiore serenità con il tuo partner. Per i single, la Luna ti incoraggia a intraprendere iniziative coraggiose. Questo è il momento giusto per lanciarti in nuovi progetti che ti appassionano, offrendoti momenti di tranquillità. Sul fronte lavorativo, Mercurio faciliterà la comunicazione, aumenterà la motivazione e renderà le idee chiare e realizzabili. Il cielo vi invita a fare chiarezza, cari Toro. Affrontate le questioni in sospeso con spirito propositivo e cercate compromessi costruttivi. L'arrivo di agosto porterà una ventata di freschezza, nuove idee e risorse inaspettate. Siate pazienti, il momento di agire con decisione sia sul lavoro che in amore è vicino. La vostra carriera finalmente spiccherà il volo dopo tanto tempo. Le grandi aspettative che avete covato a lungo nel corso di queste settimane ora troveranno un giusto compimento. La fortuna vi assisterà anche con alcune novità sul lavoro. Ciao gemelli! L'oroscopo di giovedì ti invita a riflettere sulla tua relazione. Se la relazione è in crisi da tempo, cerca soluzioni ai problemi, ma fallo insieme. Non arrenderti, i sogni possono diventare realtà con l'impegno di entrambi. Per i single, una breve fuga nella natura per meditare e riflettere potrebbe aiutare a trovare nuove soluzioni ai problemi familiari. Allontanati dagli ambienti pesanti, riorganizza il tuo spazio e migliora la routine quotidiana. Presto ritroverai energia e benessere. Sul lavoro, dovrai impegnarti più del solito. Devi rispettare un impegno che hai preso, non solo superficialmente, questo significa anche responsabilità. Giove, con la sua energia benefica, infonde coraggio e determinazione nel vostro cuore. Lasciate andare le tensioni del passato e abbracciate l'ottimismo. Ricordate, cari gemelli, che ogni fine è un nuovo inizio. Con astuzia e prontezza, saprete cogliere le occasioni che si presenteranno. I miglioramenti sul piano economico non si faranno attendere per il vostro segno dello zodiaco. Scoprirete qualche passatempo che vi interessa particolarmente, oppure avrete una intera serata di assoluto relax. Ciao cancro. Nel corso della giornata sentirai un forte bisogno di tenerezza, che potrai trovare nella persona che ti ama. Non aver paura di mostrarti per quello che sei, il tuo partner apprezzerà la tua sensibilità e sarà orgoglioso di te. Per i single, la luna potrebbe portare alla luce nuove scoperte legate ai ricordi del passato. Sì aperto a nuove esperienze e non aver paura di uscire dalla tua comfort zone, perché presto potresti incontrare un amore inaspettato. Sul fronte lavorativo, le stelle ti daranno l'energia necessaria per affrontare cambiamenti significativi. Il momento è giunto, è ora di agire e dimostrare il tuo valore. Giorni stimolanti vi attendono, cari cancro. La vostra creatività è al massimo e soluzioni innovative emergeranno per risolvere vecchi problemi. Un periodo di trasformazione positiva è alle porte, tra oggi e il 2025, la vostra vita subirà cambiamenti entusiasmanti. Giove, nel suo cammino, vi porterà opportunità uniche. Mantenete la calma di fronte alle provocazioni e disarmate l'avversario con un sorriso sereno. Ciao Leone! Un pianeta benedicente nel vostro segno vi darà una carica di energia e carisma, e presto potrete scatenare la vostra creatività e il vostro entusiasmo al lavoro. Sarà difficile fermare la vostra onda di successo. Se avete un sogno nel cassetto, è il momento di riprenderlo in mano, perché le stelle sono favorevoli alla sua realizzazione. Tuttavia, se siete reduce da una primavera faticosa, è importante rallentare e non affaticarsi ulteriormente, per non mettere a repentaglio la vostra lucidità mentale. Immaginate una cena a lume di candela, un delicato fiore come dono e una melodia dolce che riempie l'aria, rendendo la serata di giovedì con il vostro partner un momento incantato. Non temete di mostrarvi eccessivamente romantici e queste gesta d'amore culmineranno in un finale che vi farà sentire come se steste danzando tra le stelle. Per i single, il vostro entusiasmo sarà contagioso, spronando chi vi circonda a mostrarsi più aperto. Condividete la vostra allegria in compagnia degli amici, trasformando la serata in un carosello di risate. A lavoro, la vostra organizzazione sarà così impeccabile da suscitare ammirazione, e il periodo si rivelerà ideale per lanciare nuove iniziative professionali, permettendovi di brillare. Ciao Vergine! Giovedì, gli astri vi incoraggeranno a fare progetti importanti per settembre. L'amore è alle porte e potrete recuperare il tempo perduto. Le coppie che si sono lasciate potranno riunirsi, e i single potranno finalmente uscire dal guscio e incontrare nuove persone interessanti. Il cielo è favorevole ai nuovi incontri e alle nuove esperienze. Il 25 luglio, l'oroscopo preannuncia l'ingresso di mercurio nel vostro segno, promettendo emozioni intense che arricchiranno le vostre esperienze amorose. Una serata romantica potrà trasformarsi in un momento di pura felicità, rendendovi consapevoli della fortuna di avere al vostro fianco una persona tanto speciale. Per i cuori solitari, un invito improvviso potrebbe nascondere una sorpresa gradevole, con le stelle che favoriscono incontri destinati a lasciare il segno. Amore e opportunità bussano alla porta grazie a una configurazione astrale fortunata. Nel campo professionale, le vostre capacità saranno il trampolino verso il raggiungimento di importanti traguardi, con il supporto dei colleghi che sarà fondamentale per il vostro successo. Ciao bilancia! Con Marte e Giove a sostegno, potrete finalmente uscire dal periodo difficile che vi ha afflitto negli ultimi mesi. Se state male fisicamente, è importante prendere una vacanza rilassante o dedicare del tempo alla natura, per rigenerarvi psicologicamente e fisicamente. Le relazioni che hanno resistito alle crisi più pesanti possono ora guardare al futuro con ottimismo. Il giovedì si aprirà e si chiuderà sotto i migliori auspici, migliorando via via fino a sera. Il panorama astrale favorevole promette sviluppi positivi in amore, senza intoppi degni di nota. Per chi è in coppia, attendetevi sorprese e momenti felici che illumineranno la vostra vita sentimentale, specialmente se avete in programma qualcosa di unico. L'armonia con il partner sarà radiosa, infondendo allegria e complicità. I single godranno di una giornata all'insegna del relax, con un sorriso in attesa dell'incontro giusto. Nel lavoro, tuttavia, è consigliabile procedere con cautela, evitando di farsi prendere dall'entusiasmo e dal desiderio di accelerare i tempi, la pazienza sarà la vostra migliore alleata. Ciao Scorpione! La giornata di giovedì si prospetta piacevolmente impegnativa, con piccole opportunità da cogliere al volo. L'energia e la determinazione vi guideranno nelle attività quotidiane. In ambito amoroso, nonostante lievi disaccordi con il partner, riuscirete a preservare un clima di armonia. Venere vi sosterrà, assicurando che tutto proceda liscio. Per i single, mantenete una prospettiva ottimista e un cuore aperto, poiché la serata potrebbe rivelarsi il momento ideale per esprimere i vostri sentimenti, aprendo la porta a nuovi incontri. Sul lavoro, vi aspettano molteplici compiti da affrontare con concentrazione, ma la vostra abilità nel gestire le sfide vi porterà sicuramente a ottenere risultati positivi. La luna di giovedì sarà equilibrata e vi darà una sensazione di pace e comprensione, rendendovi più amichevole e naturale verso gli altri. Tuttavia, venere opposta richiede prudenza nelle relazioni amorose. È meglio aspettare e non precipitare le cose, perché il mese prossimo le cose andranno progredendo in positivo. La pazienza è una virtù, e in questo caso potrebbe essere la chiave del successo. Ciao Sagittario L'oroscopo del 25 luglio prevede una giornata un po' a scarna. Nel frattempo, non sapendo come agire, iniziate a prendervi cura di voi stessi, aspettando momenti migliori per agire o rischiare. In amore, prima di litigare, apriti e non scaricare la tua collera sul partner o su chiunque altro, è sempre importante ascoltare entrambi i lati. Se sei single, scopri chi sei e cosa desideri veramente, solo così troverai il vero amore. Guarda avanti e sorridi, le persone attorno a te percepiscono il tuo stato d'animo e reagiscono di conseguenza. Sul lavoro, dovrai affrontare una situazione importante. Non sarà il giorno adatto per fare mosse audaci. La luna sarà in opposizione fino al primo pomeriggio, quindi potrebbe essere meglio concentrarvi sulla seconda metà della giornata. La mattinata potrebbe non essere il momento migliore per prendere decisioni importanti o fare qualcosa di significativo. In più, giove opposto potrebbe portare una sensazione di stanchezza, quindi è importante pianificare i vostri piani e progetti in base alle vostre capacità e non strafare. Forse non è il momento giusto per passare del tempo con il partner, poiché potreste rovinare qualcosa di buono. Ciao Capricorno! Una giornata un po' sottotono, per lo più caratterizzata da noia e stress, è quello che prevede l'oroscopo. Evita di ripetere gli stessi errori del passato. In amore, tensioni familiari e sentimenti fuori controllo caratterizzeranno la giornata. Con gli astri momentaneamente in dissonanza, litigi e rancori sembrano inevitabili. Cerca di mantenere la calma, domani sarà sicuramente un giorno migliore. Se sei single, con la luna poco favorevole, rifletti su ciò che desideri mantenere stabile nella tua vita. Sul lavoro, evita la negligenza e cura le collaborazioni. Presta attenzione a qualche collega invidioso. Secondo gli astri, giovedì potrebbe essere un giorno di grande contentezza e fiducia per voi. Se non avete ancora trovato la felicità, il mese prossimo potrebbe essere un periodo importante per l'amore. Le persone single dovrebbero pensare a uscire e a farsi coinvolgere di più, mentre le coppie in crisi potranno finalmente chiarire le cose e trovare un nuovo equilibrio. Ricordatevi di dire sempre la verità al partner, poiché le bugie possono avere conseguenze negative. Ciao Acquario! Venere dissonante potrebbe creare problemi emotivi e farvi sentire gelosi o insicuri. Potrebbero esserci fraintendimenti e disguidi sul lavoro, quindi fate attenzione a ciò che dite e fate. È importante mantenere i nervi saldi e pensare con calma, poiché potrebbero sorgere nuovi malintesi con gli altri. Forse sarebbe meglio prendere un passo indietro e riflettere sulle vostre azioni. Un giovedì mediamente tranquillo è in arrivo, anche se alcune situazioni potrebbero risultare al limite della sopportabilità. Canalizza le tue energie verso obiettivi raggiungibili e non drammatizzare per le piccole difficoltà. In amore, la giornata sarà piena di impegni, ma avrai voglia di collaborare con partner, amici e familiari. Ascolta i consigli della persona che hai al tuo fianco e poi rispondi in modo coerente. Se sei single, evita decisioni affrettate in amore, ma valuta attentamente le tue prossime mosse. Sul lavoro, tutto procederà senza intoppi, permettendoti di tirare un sospiro di sollievo a fine giornata. Ciao pesci! Giovedì la luna sarà nel vostro segno ancora per mezza giornata. Avete una buona intuizione, motivazione ed entusiasmo, quindi dovreste agire seguendo il vostro istinto. Quando si tratta di amore, non dovete prendere decisioni affrettate basate sul dubbio o sull'ansia. Agosto potrebbe portare più chiarezza a coloro che sono confusi, ma è importante essere intelligenti e non anticipare le mosse. L'oroscopo del 25 luglio promette una svolta positiva a metà settimana, soprattutto per coloro che hanno questioni importanti da risolvere. Prenditi il tempo necessario per valutare alcune decisioni. In amore, sarà una giornata tranquilla e piena di positività. Alcuni di voi potrebbero sentire il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia. Fallo, non lasciare nulla al caso. Se sei single, lascia alle spalle la tristezza e abbraccia la positività che le stelle porteranno al tuo segno. Sul lavoro, risolverai questioni pratiche, credere nelle tue capacità sarà già un grande passo verso la vittoria. Il lavoro vi darà molto da fare, ma voi lo farete con un fortissimo entusiasmo. Ripartirete con tante energie e potreste andare avanti oltre l'orario di lavoro senza vacillare un istante.